Lisa Amidei è il nuovo sindaco di Larciano. L'ex vice sindaco e sindaco uscente sostenuta dalla lista Impegno Comune per Larciano, composta da PD, PSI e Indipendenti, ha ottenuto 1.752 voti, pari al 55,13% delle preferenze. A seguire la lista Cambiare Larciano, con il candidato Stefano Del Rosso, che ha raccolto il 20,55%, la lista di centrodestra, Noi per Larciano, del candidato Massimo Bartolomeo, ha ottenuto il 12,96%, Larciano di tutti, con il candidato Alfonso Vacchio, l'11,36%. Una maggioranza netta, dunque, che porta nel governo del Comune all'interno del Consiglio Comunale ben otto rappresentanti della neomaggioranza. Confermata la precedente giunta, ma anche alcuni volti nuovi, Fabrizio Falasca, Sandro Beneforti, Rita Squittieri, Sandro Magrini, Fabio Tanganelli, Azzurra Gagliardi, Simona Papini e Simone Monti. In Consiglio Comunale entra anche Massimo Bartolomeo all'opposizione con la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia con un seggio. Due seggi per Alternativa per Cambiare Larciano e uno per Larciano per tutti. Tutto come previsto, insomma, nel socco tracciato dal compianto sindaco Antonio Pappalardo, per due volte eletto sindaco della cittadina del Montalbano e struncato poco più di un anno fa da una malattia. La neoeletta Lisa Amidei faceva parte della seconda giunta Pappalardo in qualità di vice sindaco. Proprio per questo, nell'ultimo anno, ne aveva preso il posto come primo cittadino in attesa delle elezioni. Bassa l'affluenza alle urne, forse anche per aver collocate queste elezioni nel weekend lungo del ponte del 2 giugno. A votare si sono recati 3.319 larcianesi, pari al 62,72% degli aventi diritto, 10 punti in meno rispetto alle amministrative di due anni fa, quando era stato raggiunto il 73,29%. Le prime parole del neo sindaco sono state proprio per l'ex primo cittadino. Il primo pensiero va ad Antonio Pappalardo, ha detto la Amidei. Un amico fu lui a convincermi ad entrare in politica. Nel pomeriggio, nella sede del Palazzo Comunale, l'investitura ufficiale.